E' il cartello quello Raffaele. Perchè la l'aiplomba? User joined your channel. Digli che posso venire se vuoi. Sì, si mette il cartello, dobbiamo lavorare per loro, ma ci stanno... C'ho ancora il problema l'Alfra. Sono sbagliato da attivare. Connected. Ok, self. Ragazzi, ho fatto buff. Tranquillo. Comunque, se volete vi posso chiamare i miei amici, così magari ci organizziamo con loro. No, ci bisogna. Ti stavo dicendo... Apri il telefono. Ti ricordo anche che sei ancora ligato? Ah, sì. Posso prendere il telefono? Sì, guarda che non fa cazzate, guarda che non chiama polizia. Allentami, allentami un po' la porta. No, cioè dovresti farlo. Aspetta, anzi, glielo tengo io a mano. Te lo soltaremmo in mano io. Beh, beh. Te lo soltaremmo in mano io. Allora, vai sulla dark chat. Ti sto guardando, eh, mi raccomando. Sì. E scrivi. Fai muscolo invio. Sì. E scrivi. G, R, E, N. Tutto minuscolo. La G grande. G, R, E, E, N. Attaccato F grande o R. Sempre attaccato L grande, I, F. Madonna cosa più facile non cerco. G, R. Green for life. Ah, dimmelo in green. C'era giusto. E la F grande? Ma basta che scrivi soltanto la G grande teoricamente perché la conta in quel modo. Soltanto la G. Green for life. A posto, fatto. Tutto attaccato, giusto? Sì. Ora io ho mandato un messaggino. Vedi se è arrivato? Sì. Cosa c'è scritto? F. Perfetto. Io mi farò conoscere così, ok? Ti volevo chiedere solo una cortesia. Visto che stiamo iniziando una collaborazione. Waylander. Visto che stiamo iniziando una specie di collaborazione oppure tipo una sorta di lavoriamo sotto di voi o qualcosa. Penso di aver capito così. Non è che potresti ridarmi la pistola perché se no non posso lavorare e non posso portarti i soldi. Tu vorresti di nuovo la pistola? Sì, che me la puoi passare smontata quando ve ne andate e la rimonto. Perché mi serve per lavorare. Mi serve la pistola per lavorare. Che dici che la riguiamo sta pistola? Grazie, Serra. Da, si, rigamala perché questa mette ci deve portare alla granana. Non vedo quelle da riguiamo. Eeeh, dicevo. Prato lo dico, non fa cazzare. No, no, sto detratto. Dici, ma le siate e petani ci vuoi. State tra il villano. Dicevo, dicevo, dicevo. Ehm. Tu, in una settimana, anzi facciamo così precisamente, lunedì prossimo. Sì. Che se non erano noi di contatto. Ricontatti, ok? O quando ce li hai. Sì. Da qui a una settimana, massimo una settimana. Devi portarci 200 mila. Ok. E devi dirci quando tu sarai nei campi. Ok. In modo che se noi arriviamo non vi spariamo. Ok. Lo dico pure a loro così, magari scrivono. Fai così. Dici anche loro di unirsi nella dark chat. Basta che scrive soltanto uno di voi. Ok. Ti scriviamo, siamo sui campi. Ti farò sapere anche il nome di come ci chiamiamo. Così, per esempio, ti scrivo. Groove Yellow, siamo sui campi, così tu sai che ci siamo. No. I miei amici saranno vestiti così come me. Ok. Mi vanno, mi vanno. Ci sei? No. Mi senti? Mi senti? Ci sono, ci sono. Ah, ok. Ho scritto che 200k entro una settimana. Ok, a posto. Tu manderai un messaggio con scritto i nomi di tutti voi. Sì. E ogni volta che voi andrete nei campi, potete processare e andrete a vendere. Sì. Ci dovete far sapere. Ok, perfetto. Bene. Se mi potete slegare, poi quando voi andate, se mi lasci la pistola, per favore. Eh, c'è la sola pistola. Grazie. Ok. 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 Lo slego. Sì, sì. Nel cammincino intanto. Quindi capito? Non fare scherzi. Tranquillo, tranquillo. Entra una settimana questi 200mila, va bene? Ok. 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 E, ovviamente, se non riusciamo anche sporchi ve li possiamo dare, oppure... Sporchi di più. Di più. Ma voi avete riuscito a ripulirli i soldi? Sì. Più avanti ne possiamo anche parlare. Ok. Ti posso chiamare F, d'ora in poi, eh? Esatto. Ok. Ok. Eh, Giovanni. Ma è sparito il cammincino. Sì, sì, tutto che è. No. Giovanni. Scegli le scale a destra. Se mi segui su Instagram ogni tanto la faccia qualche storia. Wow, serio? No, non c'ho parole. Sì, ma poco. Va bene. Eh, rimani un po' qua. A dopo. Ok. Mi hai slegato? Sì, sì. Te l'ho tagliata la corda. Ok. Ok. Ciao. 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 ci siete ragazzi ma stata rapinata dobbiamo trovarci dobbiamo parlare è urgente non c'è nemmeno la macchia ah frego comunque non l'hanno cambiati i cosi non sbaglio ho letto 8 e 8 con 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 il borsone erano 5 e 5 l'ho letta sta cosa mi è arrivata la notifica mi ha detto che non potevo portare tutta quella acqua ah l'instagram è gp trattino basso pantusa sono dove si precessa l'erba ma scusate non hanno modificato la roba che si può portare addosso otto e otto se non sbaglio e prima erano 55 ma ha detto che ne avevo di più comunque raga mi hanno rapito penso sia il cartello vogliono 200k ogni settimana per farci lavorare sui campi dobbiamo avvisare quando andiamo sui campi dobbiamo pure pagare le dobbiamo pagare le dobbiamo pagare le dobbiamo 200k ogni settimana quanto? poi ci organizziamo poi ci organizziamo eh fra allora sto con se c'è un nulla o qualcosa per contattare e dici se ci puliscono pure i soldi poi ho detto che più in là lo fanno ma vediamo per ora troviamoci da qualche parte e parliamo eh però questi qua pretendono troppo ma non sono il cartello li potrebbero pulire se sono il cartello eh appunto no non saranno il cartello saranno qualche altra mafetta scema che non è neanche il ghetto vabbè raga ma guarda che ci organizziamo bene tutti i cibi con una pistola e li uccidiamo a questi se non sono troppi ciao perris tutto bene sono entrati in un nuovo server che è partito da poco no raga e mi sembra abbastanza carino no vediamo raga no vediamo che ci abbiamo fatto troviamoci vediamo mi avevano preso la pistola e me la sono fatta ridare processo? eh? processo? si stai vendo a prendermi? stavo da vedere tu in che città sei adesso perris? si si quello di merluzzi ma conosci qualcuno per farmi entrare? no qui dentro compa mi hanno fatto una whitelist di 40 minuti la whitelist più lunga della mia vita compa c'è la facciamo pure però poi noi rimaniamo con 20.000 massimo comunque si chiamano green green for life pre carino ah già capito sono tutti scemo perché no è una mafetta scema e 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 una mafetta scema sono vedi che mi vedi per strada e bisogna vedere se riusciti che vogliamo prenderci ghett vogliamo andare la bisogna vedere poi un altro ciò pallifare mai ovvio fra capito raffa e mi serve il tuo numero per mandarti la posizione io sono dove c'è se guardi il navigatore buca nerwey c'è scritto il numero dieci sto c'è il terzo giorno dell'apertura della città duecento impossibile è possibile ma rimaniamo con pochissimi soldi poi non ma anche io ho già scritto che i duecento k sono troppi e scrivi se vuole sporchi se ne vuole da 50 sporchi ma quanto da con l'erba con l'erba da 10.000 sporchi eh non da un cazzo 100 di erba ma 100 imbacchettata o 100 quella la 100 imbacchettata cioè è impossibile fare ho 10.000 e ho fatto 100 di maio cioè è impossibile perché se ci dava 20.000 fra io sto dove sta la scritta ma sono al numero 10 sotto un ponte quelli stanno due bacche nuova e la mamma mi sono andato a quella per il se vuoi entrare qua è abbastanza carico per quanto che fa 30 40 persone che sono i primi giorni sei in polizia prima erano solo due non facevano battugliamento mostrano in sesta e ho fatto solo controllo ieri sera non ho fermato ma l'ho fatto 5.000 di multa ci sei ah dove stai sto qua non mi rincoglioni rincoglioni sono qua fiamma a te rincoglioni non lo senti suonare non senti suonare dove mi manca con me dove ho andato beh comunque la base con paura Alfredo dove sei tu Alfredo sono qua sono di triboio no no eh ho capito eh non ho chiesto due io direi di incontrarli a questi quelli eh forza io dico da cosa ci guardiamo tutti quanti e lì dove ci guardiamo incontrano no oh ragazzi ragazzi aspetta io voglio comprare una macchina urgentemente scusate ma non voglio altri 5.000 di multa ma con quale soldi ma con quale soldi devo comprare stamani oh fra stanno alcune macchine 7.000 8.000 fa niente che sono brutte basta ma insomma me la vede e poi compro una più bella ma per adesso mi compro una pure brutta basta che non è rubata eh ma non so quanto costano le auto porca mia ah non so il pezzo delle auto no ma ostava una 7.000 sicuro raga volevano 3.000 di erba no no fermiamoci fermati fermati con la macchina fermati con la macchina fermati fermati fermiamoci scendiamo che non possiamo parlare il radio che per i coglioni cosa vieni qua vieni qua vieni qua che parliamo vieni qua che parliamo papà è troppo sia 3.000 sia 200.000 vieni qua entrate in questa green chat cioè non ce la faccio andate nella dark chat e scrivete ma dove siete? civico 149 all'incrocio che chat? verso il civico siamo al civico 141 sotto un ponte cioè non sotto un ponte in al civico 141 ti dici il chat dark? grazie devi scrivere green G grande G grande Roma Empoli ci sei? G grande è che cazzo ciò vi sa guarda vada a chi mince uno che so altre dai un pare vinciato alfred alfred mi fai chi fa ste vinciate green for life g grande dovete scrivere questo green genova roma empoli empoli e napoli firenze o tranto roma di borno imola firenze empoli lo descrive questo la darte che ci ha detto la gi gran live voglio ma questi qua prendono troppo con il letto mi scrivo se voglio ma devi scrivere solo tu ma devi scrivere solo tu ma io vi prego vado un attimo a comprare la macchina aspetta dove vai guidi tu allo guido io che facciamo lo rispettiamo non possiamo dargli non possiamo dargli di 250 sporchi però non ci arriviamo 250 sporchi sporchi ce la facciamo benissimo però non sporchi e brutella non possiamo riciclarti ma quanti erano due due adesso due no oggi perché se veramente sono sei otto si cuoci schiattano se veramente dove fanno assalto ma chi l'ha scelto ma chi l'ha scelto poi c'è di gruppo no di no no scrivi no ciò cioè se potevamo pulire i soldi ma ce la lasciamo pure abbondantemente ma se non ce li possiamo pulire cazzo ce la facciamo si ma vestitevi così ragazzi gli ho detto che siamo vestiti tutti qua e andiamo no io aspettavo io aspettavo dopo ma li stai aspettavo scusi che ci dicono quello che che se erano 100.000 andava pure bene però ma ma non non è che non abbiamo le palle e che non ce l'hanno andata ancora non abbiamo armi non abbiamo le armi ma ci vogliamo far conoscere ma ci vogliamo far conoscere guardate vedete così che quelli può dire che cazzo siete dici prima ancora no 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 queste sceglie si sono presi i glove ma non c'era nessuno oh alfred zio non ho capito questi si pensano che non abbiamo potuto fare solo perché ancora non andiamo a gruppo ho capito semplicemente non siamo scemi come loro che con le riepie con o basta silenzio ammazzo questo video come la macchina ciao come la macchina ma non mi non scassare le ruote non risponderò più voglio me aggiornate giornate ho 50.000 mi vado a comprare la macchina ho 50.000 mi vado a comprare la macchina anch'io mi vado a comprare la macchina anch'io mi vado a comprare la macchina mi vado a comprare pure tu almeno facciamo una cosa per questo 50.000 sono belle macchine aperto il concessionario scusa si si c'è il direttore dentro è quello che mi voleva offrire il lavoro ecco 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 ... E' un po' di testa Avete letto? Avete letto? Al più facile portare 5.000 impacchettate che 200 volete Direi che gli partemo a 5.000 impacchettate Direi che gli partemo a 5.000 impacchettate 5.000 impacchettate quanto ci mettiamo a farlo? Non devo mangiare niente Quanto ci mettiamo a fare 5.000 impacchettate? E giorni Eh? Voglio però parliamo a mamma è importante comprare ste macchine Eh? E giorni di 16 anni? Ma dove la conserviamo poi? Eh 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 Ah no ci sono gli otter Già l'ho stato io E poi conservare 5.000 Sì 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 Sono infiniti gli otter E stasera ci mettiamo a farla Quando riusciamo a farla 3 in una sera Oh Non lo so in una sera Ma vuoi dire una sera 5.000? Ma dovremmo stare almeno 4-5 ore Ma non lo so 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 Abba voglio Io vado Ho vado Ho vado Ho vado Ci sentiamo stasera ci organizziamo Ciao 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 Patente mi serve la macchina Per fare? Andare a prendere la patente Perché devi prendere la patente? La volta prendo una moto Sali Dami tu che io devo andare a caccare il prendimento Che devo fare? Portami là Poi gli lasciamo chiusciика A cada volta L escrever Ha 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 Kasper Disci Puta Qua Attivare Assist Ot views OpEST ers Grazie a tutti. Vabbè ragazzi la leg la stacchiamo qua, bacia e abbraccia a tutti, ma stasera vediamo di risolvere sta cosa qua.